Si presenta oggi per il sesto anno il rapporto annuale dell'acquacultura e della pesca in Sicilia. Quali dati salienti di questa analisi? Ancora una volta in questo rapporto vengono, attraverso i capitoli, sviluppati alcune tematiche che sono oggetto di studio all'interno dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. Il primo capitolo affronta, come negli anni passati, il quadro conoscitivo della flotta peschereccia siciliana. Sono dati che vengono aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, quelli relativi al 2014 danno ancora un quadro di riduzione della flotta peschereccia siciliana che raggiunge il minimo storico con una curva di decrescita molto rilevante. Questa riduzione è però meno rilevante che negli anni passati. Soltanto meno due motopescherecci, meno rispetto ai 15 dell'anno passato, rispetto ai 32 dell'anno ancora precedente. Siamo arrivati ad un fondo e da questo fondo, secondo le osservazioni dei membri dell'Osservatorio, bisogna ripartire per programmare un piano di utilizzo dei fondi comunitari previsti dal FEAMP per la salvaguardia e la tutela della pesca mediterranea. L'analisi degli altri capitoli affronta alcune tematiche molto importanti. Innanzitutto quello, per esempio, che emerge anche dai dati del primo capitolo, di potenziale sviluppo della pesca artigianale. La pesca artigianale, rispetto alla pesca demersale, soffre meno nel corso di quest'ultimo anno. Ne sono una prova, per esempio, il fatto che alcuni porti che si dedicano prevalentemente alla pesca artigianale vedono in aumento il numero di barche, mentre quelli che hanno prevalenza di pesca demersale, a strascico, come Mazzara del Vallo, vedono ridurre fortemente il numero di motopescherecci. Quindi, attenzione particolare alla pesca artigianale, che tra l'altro, come viene sottolineato nel secondo capitolo dal dottore Fiorentino, ha enormi potenzialità in termini di ripotenziamento della biodiversità del Mediterraneo. Le risorse destinate dal FEAMP possono quindi favorire la pesca artigianale. Come negli anni passati, un capitolo del rapporto è dedicato all'interazione tra ambiente e pesca. Il dottore Franca Andaloro affronta la questione dei rifiuti marini e della salvaguardia della pesca dai rifiuti marini, mentre il capitolo redatto dal dottore Gioacchino Bono affronta una delle questioni cruciali, quella relativa all'innovazione tecnologica e le ricerche che sono state fatte nel corso di questi anni attorno ad alcune problematiche dell'innovazione, che possono fornire un supporto strategico alla pesca siciliana. Negli altri capitoli, il dottore Andrea Santulli affronta il quadro conoscitivo dell'acquacultura siciliana, che nel corso dell'ultimo anno vede di nuovo peggiorate le situazioni rispetto invece al 2013, che aveva visto in qualche modo un rilancio dell'acquacultura siciliana, mentre un capitolo, anzi due capitoli, sono dedicati ad affrontare il rapporto tra pesca e blu economy. Il capitolo della dottoressa Buffa affronta in particolare le linee della blu economy in rapporto con il progetto blu economy nuove rotte per la pesca, che il distretto produttivo sta eseguendo nel corso di questi ultimi due anni. E infine il dottore D'Agostino affronta in un capitolo, descrive in un capitolo il ruolo dei laboratori qui di Capo Granitola a supporto della pesca siciliana. Un quadro conoscitivo, credo, molto importante, che può fornire ancora una volta alla Regione, ma anche alla Direzione Generale della Pesca, che in questa riunione è stata autorevolmente rappresentata dal suo direttore, il dottore Riccardo Rigillo, in termini di potenzialità. Un quadro conoscitivo che, come negli anni passati, mettiamo a disposizione degli operatori della Regione siciliana e del Dipartimento Pesca nazionale. Qui al CNR di Capo Granitola, quali dati emergono dall'incontro di oggi? Emergono i dati relativi al rapporto annuale sulla pesca e l'acquacultura in Sicilia del 2014. Sono tendenze e controtendenze, luce ed ombre, come si può dire. C'è questa novità di una ripresa di alcune produzioni, piccolissima ripresa, ma ovviamente ci sono specie che sono seriamente minacciate e rischiano anche di scomparire. Bisogna riprendere l'economia ittica nel suo insieme ed è necessario che ci sia una riflessione ampia su tutta la filiera ittica. Non bisogna più guardare il sistema pesca a compartimenti stagno, ma bisogna, come giustamente segnalava l'ingegnere Pernice, che è il nostro coordinatore, fare sì che tutta la filiera si muova in modo armonico, in modo complessivo, perché la ricchezza di un settore primario viene da tutte le fasi del sistema stesso, a partire soprattutto dalle peculiarità fondamentali. Riprendere la produzione, riprendere la produttività, che significa soprattutto creare lavoro. Questo si può fare se c'è anche una grande armonia fra tutti gli attori, i ricompresi il sindacato, che è un attore fondamentale in questa filiera, perché i lavoratori devono sempre di più diventare protagonisti del loro destino. Qual è quindi il ruolo dei sindacati in questo complesso di azioni? Non soltanto la difesa dei diritti dei lavoratori, ma più che altro il nostro ruolo all'interno dell'osservatorio, del settore della pesca, ringraziamo sempre Giovanni Tumbiolo per l'opportunità che ci dà ogni volta di partecipare a questi eventi, è quello di partecipare attivamente a quello che diceva Tumbiolo, cioè essere parte sinergica di questo grande progetto che deve vedere la ripresa del settore della pesca complessivamente parlando, dalla gianteristica, che significa lavoro, dalle officine, che significa lavoro, penso anche ai semplici supermercati che venderanno i loro viveri che vanno a bordo dei pescrecci e quindi significa lavoro. E ripristinare il lavoro del mare, che in questi ultimi anni è andato a perdersi, vi faccio l'esempio, non c'è il ricambio generazionale che questo settore aspetta da tempo, quindi dobbiamo lavorare tutti insieme affinché ci sia questo ricambio generazionale e soprattutto ritorni il settore della pesca ad essere un settore appetibile, perché vedete in questo momento la globalizzazione ce lo consente, importiamo tantissime derrate alimentari, ma viva Dio abbiamo le nostre derrate alimentari, abbiamo i nostri prodotti che devono essere valorizzati. Il rapporto di oggi che il dottore Pernice ha splendidamente espresso e posto in essere nella ruina ci dà un dato, quello che abbiamo enormi potenzialità, questo settore ha enormi potenzialità, che devono essere sfruttate attraverso il nuovo strumento economico del Comunitario, il Fiampe. Se tutti insieme, non come diceva Giovanni, separatamente, su tutti insieme, mettiamo in sinergia le nostre energie, le nostre professionalità, io credo che questo settore possa avere una nuova chance di rilancio. Dottore Rigillo, cosa ne pensa di quanto è emerso oggi dall'analisi fatta? Beh, è un rapporto molto interessante che mette in luce diversi aspetti notevoli della pesca del Mediterraneo, in particolare anche della realtà siciliana. Innanzitutto, un'importante riduzione dello sforzo negli ultimi anni ha portato alcune risorse come il Gambero Rosa in uno stato di salute molto buono rispetto ad altri stock del Mediterraneo. Si è poi toccato anche il tema della pesca artigianale, che è un tema molto importante soprattutto per la Sicilia, ma non solo, per tutta l'Italia, anche in termini di definizione di questa pesca, di come può essere definita, qual è l'impatto, il suo ruolo di uso responsabile della biodiversità. E poi anche altre tematiche, come l'acquacoltura, come i rifiuti a mare, e in particolare l'inquadramento di tutti questi temi nell'ambito più ampio della Blue Economy, dell'economia blu e della crescita blu, che sono, direi, i temi del futuro, i temi attraverso i quali la pesca può guardare al futuro. Come sviluppare quindi questi settori, la Blue Economy soprattutto? La Blue Economy si sviluppa, secondo me, facendo sistema, considerando la pesca come elemento di un sistema complesso, che è il sistema mare, il sistema dell'economia marittima, e che include tante componenti, dai trasporti a naviglio al turismo, e che va inquadrato in un disegno organico globale.